Belen Rodriguez è il ritratto della felicità. Ieri 12 luglio, poco dopo la mezzanotte, più precisamente alle 12,47, ha dato alla luce Lunamari la figlia avuta con Antonino Spinalbese. A poche ore dal parto, la piccina è già una star social, grazie a mamma Belu e papà Antonino che hanno offerto ai fan diversi scatti della neonata, informando anche sul peso, 2,9 kg. Non solo, la 36enne argentina ha anche pubblicato tra le stories Instagram, un'istantanea in cui si è immortalata ad allattare. Inutile dire che subito la fotografia è stata visualizzata da migliaia e migliaia di fan, su Instagram la Rodriguez ne conta oltre 10 milioni. Sempre tra le stories, Belen ha fatto campeggiare un'immagine in cui ha mostrato il compagno Antonino con in braccio Luna. Con Spinalbese, di 11 anni più giovane di lei, la showgirl sudamericana ha ritrovato tranquillità e amore, ma soprattutto il senso della famiglia, dopo aver visto naufragare il matrimonio con De Martino.